ciao benvenuti al mio podcast io sono Fabrizio Fioramonti consulente immobiliare ad oltre 25 anni e quindi oggi parliamo esattamente di come si determina il prezzo di una casa ok argomento sempre molto dibattuto sempre molto interessante e oggi ci addentriamo proprio fino nel profondo di questo argomento perché centrare il prezzo è fondamentale per poter vendere qualunque cosa ok se abbiamo un prezzo sbagliato molto difficilmente se non quasi impossibile riusciremo poi a vendere tanto più un immobile ok allora entriamo subito nel dettaglio allora la prima cosa che molte persone ovviamente fanno per avere un'idea di quanto possono chiedere per la vendita del proprio immobile è andare a vedere e andare a fare uno studio della concorrenza si chiama così quindi si va sui principali portali e quindi immobiliare.it idealista casa.it uno di questi ce ne sono anche altri ovviamente e vanno a vedere i prezzi che ci sono sempre nella loro zona più o meno con le stesse metrature caratteristiche ok e un primo errore che molte persone fanno è che scambiano mentalmente questi come valori di vendita e non è così cominciamo anche qui a dare i primi consigli utili allora tolti gli annunci che sono lì magari appena entrati ok da una settimana e tutti gli altri sono immobili che tutti quelli lì da tempo sono immobili che sono proposti a prezzi a cui non si venderanno perché se no non sarebbero lì ok e quelli che sono stati venduti non sono lì ok neanche con le trattative quindi attenzione a prendere come riferimento questo per determinare il proprio prezzo di vendita perché è un riferimento sbagliato quindi bisognerebbe chiaramente dare un'idea è un aspetto importante da valutare perché dobbiamo essere competitivi con la nostra concorrenza ma serve appunto per questo capire per essere competitivi non per determinare il prezzo ok questa è solo una piccola parte che ci serve per avere un'idea precisa di cosa possiamo chiedere il vero dato più importante in assoluto che ci può dare un'idea di che cosa possiamo prendere invece è l'analisi del venduto proprio quindi andare a vedere i valori di vendita veri in zona a quanto si è venduto nell'ultimo periodo ok per questo io non intendo il vicino mi ha detto che so per perché ho sentito dire che quello ha venduto a ok intendo poter vedere dei veri rogetti dei veri dati di vendita anche una certa quantità per poter fare poi delle statistiche delle medie e farmi davvero un'idea cioè il fatto anche che messo che sia vero nel mio condominio si è venduto un immobile a x mila euro una sola non è detto che vada bene magari l'ho comprata un vicino che lo voleva per forza e l'ha strapagato perché ho quello niente e quindi non mi fa mercato se io prendo 10 20 vendita in zona negli ultimi negli ultimi mesi per immobili simili al mio ecco qui ho un dato molto più preciso questi dati dove si prendono chiaramente questi dati li può dare un agente immobiliare ok perché hanno gli strumenti eccetera e qui investono perché sono programmi che costano davvero tanti soldi e farlo per una volta nella vita non ha non ha molto senso comunque esistono è importante chiaramente vedere e studiare i prezzi di vendita il più possibile proprio per fare una statistica e andarli a rapportare poi con l'analisi della concorrenza questi due elementi ci danno una fascia quindi diciamo un minimo massimo entro cui stare ok detto ciò anche qui non è finito perché sono dei numeri non è un valore di una casa non è una moltiplicazione ok e però si basa su dati statistici bisogna andare a riportare questi numeri anche sulla tipicità del mio immobile che voglio vendere quindi devo andare a vedere anche delle caratteristiche che la casa che voglio vendere ha o non ha per caratteristiche per esempio potrebbero essere un giardino privato in questo momento soprattutto dopo il covid davvero molto richiesto una terrazza abitabile un ultimo piano una vista particolare magari c'è una vista sulle colline tutta sul verde oppure centro un monumento importante ok sono tutte cose che chiaramente sono da considerare se è stato ristrutturato il palazzo oppure no e se è stato ristrutturato il mio appartamento oppure no sono altre considerazioni chiaramente che sono da fare perché anche un acquirente guarderà in base al proprio budget anche le spese che dovrà affrontare una volta considerato l'immobile prima di fare un'offerta quindi anche queste chiaramente incidono la presenza dell'ascensore ok questo in base al piano più il piano è alto più l'ascensore ha una sua rilevanza nella determinazione del prezzo questo è ovvio al titolo puramente informativo dico che molte persone possono valutare l'acquisto di un immobile senza ascensore fino al secondo piano dal terzo comincia a esserci già un po' di depreciamento ok chiaramente i servizi in zona ok posso andare a piedi dappertutto o mi serve la macchina per qualsiasi cosa è un altro elemento che ti fanno le spese condominiali sono davvero tanti ok adesso vi ho citato gli i principali però ecco vanno considerate anche un po di questi fattori per capire se sono la parte più alta non la parte più bassa nella della mia fascia e un altro elemento importante chiaramente è capire quanto il mio immobile è richiesto e questo è legato anche alla posizione gli americani dicono location 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 ok la posizione tenete conto che incide per un buon 60 per cento del valore immobile più la mia casa è in una posizione molto richiesta molto interessante più il mio valore può essere alto più posso chiedere e viceversa chiaramente ok e poi anche in base alle richieste per esempio accennavo proprio un momento fa per esempio subito dopo il covid la richiesta di casa col giardino è aumentata esponenzialmente ok così come continua a essere sempre molto richiesta un ultimo piano con una terrazza abitabile per una bella vista ok e queste sono sempre cose molto richieste caratteristiche da valutare e ce n'è un po di meno sul mercato quindi se io ho una cosa molto richiesta sul mercato ce n'è poco questo permette chiaramente di poter chiedere una cosina di più rispetto al normale valore di mercato o stare comunque nella parte più alta di questa di questa fascia anche qui è un esperto che ti può abbastanza consigliare come cose sono ovvie vedi la casa col giardino in questo periodo altre un po meno quindi sempre se l'esperto aiuta dopodiché entra in gioco tutti questi fattori adesso li ricapitoliamo aiutano servono per determinare il prezzo quindi ricordiamo quindi l'analisi della concorrenza cosa stanno chiedendo cosa c'è in vendita per case simili alla mia nella stessa zona cosa stanno chiedendo poi andiamo a vedere a cosa si sono vendute nell'ultimo periodo case simili alla mia e andiamo a capire i punti di forza e di debolezza della mia casa quindi le caratteristiche che ho e che non ho e quanto è richiesta in che come sono messo anche come posizione il mio immobile e poi dopo appunto ci vuole anche un po di strategia e molti sono convinti per esempio che parto alto tanto calare si fa sempre in tempo ok al di là che questa cosa non è stata quasi mai vera ma è più una credenza popolare che che altro molti pensano che se il business si debba trattare per forza tutte queste cose qui in realtà 90 per cento dei casi non sono vere chiaramente ci sono sempre delle eccezioni ok la strategia dipende dal momento di mercato e anche qui ci vuole una consulenza importante uno studio importante dipende in che momento siamo ok non è che c'è una verità uguale per tutti sempre se siamo in un momento in cui i prezzi sono a salire c'è la tendenza a salire per esempio aspettare può avere un senso e partire alto potrebbe essere premiante e questo è quello che è successo per esempio negli anni buoni tipo 2006 2007 ok anche lo stesso 2005 in cui i prezzi continuavano a salire e quindi ci stava a partire su perché la gente sapeva che tanti prezzi aumentavano quindi anche se costava qualcosa di più non veniva bloccarlo subito viceversa che è la realtà che stiamo vivendo adesso se invece le tendenze non solo le previsioni che sono sempre molto importanti ma anche le tendenze e anche quello che ci succede intorno fanno sì che viviamo un momento di prezzi quindi al ribasso dobbiamo considerare che aspettare non ha veramente un senso perché più aspetto più appunto i prezzi che le ranno quindi prenderò meno soldi e partire alto non è interessante perché appunto mi farà perdere del tempo e quindi soldi e perché la gente verrà a vedere casa mia e poi magari ne va a comprare un altro e quindi io aiuto gli altri a vendere e poi un'altra cosa grave è appunto che la gente si esiderà non avrò non potrò mettere in concorrenza gli acquirenti e una persona si esiderà e comincerà a trattare ma anche giustamente perché sono partito alto ok come facciamo poi noi quando andiamo a comprare le case quindi se io invece parto da una cifra tra virgolette in momenti in cui i prezzi sono previsti a ribasso se io parto dalla cifra più alta di quella che il mercato permette e ricordo di quella che il mercato permette dopo aver fatto un attento studio del valore di mercato e lo prendo subito non perdo soldi incasso subito e posso andare magari anche a ricomprare e ho preso davvero il massimo quindi in questo momento partire alti non ha davvero senso se ci fosse una dinamica dei prezzi a rialzo invece può essere davvero consigliabile quindi dipende dal momento in questo momento siamo in una politica dei prezzi a ribasso ok adesso io sto parlando inizio di aprile 2024 quindi siamo in questa zona in questo periodo ed è dovuto da fattori ovviamente logici i tassi di mutui, le previsioni negative delle banche, il difficile accesso al credito problemi al lavoro, guerre, pestilenze, compagnia bella, virus ce n'è di ogni sono tutti fattori che fanno sì che le tendenze siano tutte al ribasso ok quindi ho cercato di dare un'idea chiaramente ci sono anche altri fattori a considerare ma questi sono i principali e già così possiamo capire come si determina e possiamo comunque renderci conto che abbiamo bisogno davvero di farci aiutare di un esperto ok quindi chiedete a un consulente immobiliare professionista qualcuno che però vi porti dei dati ok perché un conto è qualcuno che viene da voi e vi dice secondo me si prende così quella è un'opinione ok un altro conto è qualcuno che ti porta dei dati vero soprattutto i dati di vendita delle statistiche, delle tendenze di mercato, dei grafici oggettivi che ti può consigliare davvero bene ed è così che si riconosce un professionista quindi rivolgetevi a un professionista per decidere il prezzo, capire quanto vale la vostra casa quindi fate quello che volete un professionista d'immobiliare che non è un tecnico, è un agente immobiliare ok e quindi se avete dubbi, domande, volete approfondire, volete sapere quanto vale la vostra casa chiaramente potete chiamarmi Fabrizio Fioromonti, potete chiamarmi al 345 178 7711 c'è il mio sito fabriziofioromonti.it, ci sono i miei social con il mio nome e cognome quindi potete scrivermi e arrivederci al prossimo podcast e spero che sia stato interessante per voi continuerò con argomenti che mi avete chiesto ok, per parlare sempre di cose per voi interessanti ciao a tutti, arrivederci al prossimo podcast